Fin da quando ero piccola io cado sempre, mi puoi sfiorare cado, però sono migliorata, sto lavorando sull'equilibrio, su tutto e quindi però è più forte di me ogni tanto devo cadere, cioè se non faccio una caduta non va bene. A me piace dare botte, piace essere fisica, è stata tutto grazie a quando ho giocato la piccola con i Mastik, sono cresciuta che ero l'unica femmina del gruppo, quindi era un po' di dovere, perché se non facevo botte lì mi massacravano, quindi sono cresciuta così e è rimasta la mia caratteristica e penso sia comunque un lavoro importante, perché è buttarsi su ogni pallone, è anche un qualcosa che mi carica, quando vedo una parra rotolare io mi butto è un qualcosa che forse mi carica ancora di più recuperare un pallone vagante che fare un canestro, quindi è molto importante e mi piace, sono contenta di essere così aggressiva.